La Maremma è la terra della vela ed è la terra che ha dato i Natali alla più grande campionessa di windsurf italiana, Alessandra Sensini. Maremma che per vocazione naturale è territorio adatto e congeniale a praticare sport d'acqua e ospitare eventi di caratura internazionale, nonché location di preparazione per competizioni di altissimo livello, come le stesse Olimpiadi. I venti abbastanza forti fanno della costa di Maremma una meta ideale per atleti o appassionati della vela in genere, dal windsurf al kitesurf, dalla vela d'altura alla deriva, lungo le acque di una costa affascinante costellata di gioielli come Castiglione della Pescaia, Puntala, Porto Santo Stefano, Follonica. Quello della Maremma è un vero e proprio capitale turistico e sportivo che è come testimonia alla plurimedagliata velista azzurra Alessandra Sensini, che ora punta dritta verso le Olimpiadi di Londra 2012. Eccellenza dello sport che quindi si unisce a quella del territorio, tanto che proprio le istituzioni grossetane, insieme alla campionessa di windsurf, hanno dato vita al progetto Maremma Costa di Vela, nato per sostenere l'immagine del patrimonio naturale, enogastronomico e produttivo della Maremma toscana. E la costa della vela maremmana si promuove anche grazie all'apporto del web e delle infinite possibilità che offre internet. In quest'ottica la redazione di Intoscana.it, che per propria mission editoriale promuove il territorio toscano attraverso la comunicazione digitale, ha seguito le più importanti competizioni sportive di Vela in Maremma, tra le quali la Spring Cup e la Festa del Vento di Alessandra Sensini, con la produzione del format video Sailing Maremma. In Toscana.it ha puntato su un'operazione di comunicazione crossmediale che ha visto la condivisione dei contenuti video sul web, con migliaia di visualizzazioni da tutto il mondo, anche grazie all'utilizzo dei social network YouTube, Freaker, Facebook e Twitter. Il format di Intoscana è stato infine visibile anche sul satellitare grazie alla collaborazione con Maremma Channel sul canale Sky 914. La Maremma veleggia quindi in rete navigando lungo le acque del web, seguendo le correnti di internet per far conoscere le sue bellezze. L'offerta turistica e sportiva. L'offerta turistica e sportive. L'offerta turistica e sportive. L'offerta turistica e sportive. L'offerta turistica e sportive. L'offerta turistica e sportive.